24 gennaio 2024, il capoluogo ricorda il terribile schianto dell'elisoccorso avvenuto sette anni fa. Oggi siamo venuti a scoprire come lavora il team dell'elisoccorso e siamo venuti proprio a capire come funziona quello che è a tutti gli effetti un autentico ospedale volante. Come potete vedere, grazie alle immagini di Daniele, ci sono in un angolo compattati tutti quelli che sono strumenti che ritroviamo in una normale sala operatoria. Quindi si può assistere il paziente per quanto riguarda le funzioni vitali, respiratorie e cardiocircolatorie, ovviamente utilizzando poi tutti i farmaci necessari per mantenere il paziente in vita, visto che si tratta quasi sempre di situazioni a limite in seguito a gravi incidenti. Uno strumento importantissimo, ci spostiamo con le inquadrature, è ovviamente il verricello, strumento prezioso proprio per quello che è il lavoro dell'elisoccorso perché grazie a questo si raggiunge qualsiasi località, soprattutto le più impervie. Si ha poi a disposizione, continuiamo proprio a mostrarvi con le nostre immagini, una barella speciale leggera in carbonio che consente di recuperare in ogni luogo qualsiasi paziente. Inutile dire ovviamente che tutto ciò comporta un doppio rischio, uno legato al volo con tutto ciò che comporta appunto l'operazione e l'altro invece legato alle manovre speciali che si fanno lavorando proprio con il verricello per raggiungere i luoghi più complicati, più impervi, a volte anche in parete. Si tratta, lo potete vedere, allarghiamoci un po' Daniele con l'inquadratura, di un elicottero dotato di innovazioni tecnologiche avanzate. E ricordiamo poi il team dell'elisoccorso che è costituito da un pilota, un copilota, un tecnico verricellista a bordo, un infermiere, un medico più il soccorritore alpino. Precisiamo poi che quando si raggiungono i luoghi impervi è proprio il soccorritore alpino il primo a scendere e a stabilire come muoversi in sicurezza. Trattandosi di un mestiere delicato e pericoloso c'è naturalmente bisogno di formazione periodica che tutto il personale svolge per mantenere elevato il livello di qualità e di sicurezza.